Aglie, Fravaglie, Fatturganu, Quaglia, Corna, Bicorna, Capialice e Cavaraglia Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Faccio una premessa, sono napoletana e amo la mia città e voglio portare un po' della nostra tradizione a tutti insomma per farvi capire che belli siamo, siamo veramente un bel popolo io non potrei fare a meno di amare la mia città perché è una città meravigliosa da tutti i punti di vista come diceva Pino Daniele, Napoli è mille color, ha mille colori e mille sfaccettature e ora vi parlo un po' di quella un po' più superstiziosa insomma di quella parte napoletana un po' di Napoli un po' più superstiziosa proverò a parlarne perché noi napoletani siamo molto 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 colorati e siamo anche il popolo che dice non è vero ma ci credo nel senso no ma sta cosa non è vera però ci credo allora vi volevo parlare un attimino delle superstizioni napoletane prima su tutte è il malocchio Aiel, Ashfortuna, fa parte praticamente della cultura napoletana da sempre e spesso noi napoletani facciamo dei gesti scaramantici ormai sono entrate a far parte del nostro modo di fare insomma neanche ce ne rendiamo conto vi faccio un esempio quando qualcuno sta passando un periodo negativo dove tutto va male dove ogni cosa che inizi a fare gli va male la prima cosa che viene detta anche da chi magari non crede nel malocchio non è che sei stato colpito dal malocchio è diventato ormai un modo di dire anche se chi in quel momento là lo sta dicendo ma non crede assolutamente al malocchio la prima cosa che in genere viene da dire è oppure tu stesso mentre stai facendo determinate cose e ti cade una cosa e te ne cade un'altra e ti fai male tutto magari lì ravvicinato la cosa che dici dici ma ronna ma te ne sono l'occhio in goal nel senso dici ma fa che c'ho qualcuno che mi sta secciando insomma che me le sta buttando dietro queste cose quindi insita proprio in noi questa questo modo di dire insomma questo modo di no di pensare che fa parte proprio della nostra tradizione e che cosa si intende appunto per uocchio in goal ossia avere il malocchio sono praticamente tutti gli sguardi delle persone sulla tua persona fatti in maniera invidiosa e gelosa e che ti lasciano addosso ovviamente del negativo se ti guardano male ti stanno a buttare cose brutte addosso e per togliere questa sorta di sfortuna si vada a da fattucchiare cioè dalla fattucchiera insomma quella vecchina che in genere ognuno di noi ne conosce una che ti leva il malocchio facendo la solita pratica che tutti ormai conoscono anche non sapendo magari bene cosa viene detto del piatto del piatto ovacil cioè della bacinella con l'acqua dell'olio e di quelle parole impronunciabili che sembra aramaico antico che dicono queste vecchiette tipo e fatto questo verificato la vecchietta se c'è questo malocchio viene elevato insomma la persona sta bene stranamente fa molta scena insomma ma sta vecchina che parla questa aramaico antico cioè non è aramaico antico ma non so non si sa effettivamente anche perché poi ci sono varie metodologie c'è chi lo fa in un modo chi in un altro chi dice una cosa chi in un'altra c'è chi conclude con le avemarie come pare tre anni avemarie chi conclude in un altro modo insomma ci sono varie metodi magari cambiati nel tempo non lo so visto che sono tramandati la notte prima di Natale quindi magari saranno variate o magari da paese a paese da regione a regione cambiano insomma si va dalla fattucchiara dalla fattucchiera e si fa levare sto malocchio poi ci sono anche altri tipi di superstizione che poi vedremo hanno comunque dei significati delle motivazioni insomma sono venute da qualcosa perché non è possibile che improvvisamente il napoletano si inventa la superstizione così allora ad esempio l'ombrello aperto in casa porta sfortuna mai aprire l'ombrello in casa perché perché praticamente praticamente se viene aperto un ombrello in casa quando per esempio prima c'erano i tetti solo con le tecole o comunque non so come erano fatti e pioveva in casa o si metteva sta bacinella per accogliere l'acqua o si apriva un ombrello quindi è come se fosse sinonimo di presagio di qualcosa di brutto che poi accadrà quindi ogni volta che in una casa nella casa di un napoletano aprirete un ombrello vi verrà detto chiudi questo ombrello che porta sfortuna non si spazza mai sui piedi di una single perché così la single non si sposerà mai cioè se spazzate sui piedi di una persona che non è sposata non la fate sposare lo specchio non va assolutamente rotto perché sono sette anni di disgrazia anche se qui sono vari motivi per cui lo specchio non va rotto e probabilmente quello più plausibile era perché prima comprare uno specchio comunque costava spesso gli specchi ce l'avevano prima gli specchi si è sfilata la scarpa prima gli specchi ce l'avevano soltanto le persone benestanti quindi che avevano eccole i collaboratori domestici oggi si chiamano così prima venivano chiamati camerieri o comunque inservienti e se uno di loro nel pulire lo specchio lo faceva rompere ci volevano quasi sette anni per la paga che pigliava per ripagarlo insomma per ricomprarlo magari per ripagarlo probabilmente questa è quella lì più plausibile per cui rompere uno specchio significherebbe passare sette anni di fame all'epoca almeno e quindi ecco i sette anni di disgrazia la spilla il regalo ricevere una spilla il regalo allora porta sfortuna a meno che tu che la ricevi il regalo non pungi chi te l'ha regalata con quella spilla l'olio a terra guai mamma mia guai l'olio costava tanto anche oggi costa e se fosse caduto a terra sarebbe stato un guaio enorme uno spreco enorme e noi sappiamo bene quanto ci teniamo al nostro olio perché è una cosa preziosa a Napoli come in tutte le città c'è sempre stata la superstizione che il gatto nero porta sfortuna soprattutto se attraversa la strada probabilmente proprio perché è sempre stato associato ecco al maligno a qualcosa di negativo ma alla fine oggi così tutti abbiamo i gatti e tanti ce l'hanno nero io adoro i gatti neri se cade il sale sul tavolo no non deve cadere il sale sul tavolo il pane sotto sopra non si mette perché porta sfortuna mi pare che sia porta sfortuna ma non mi ricordo io lo metto come capita si dice che le posate non vanno incrociate perché è come riprodurre una X e quindi riporta la croce e la croce fare la croce inutilmente così non si fa ma va fatta soltanto per rendere omaggio al Signore insomma quindi fare la croce inutilmente richiamerebbe i dolori e i sacrifici del crocifisso insomma quindi la croce le posate incrociate nel piatto non si mettono io le metto lo specchio un'altra cosa sullo specchio è che quando muore qualcuno lo specchio viene coperto perché si pensa che le anime che vagano alla ricerca della porta dell'aldilà possano prendere lo specchio per un ingresso dell'aldilà magari e quindi restarvi intrappolati per l'eternità appunto spesso mi è capitato di andare a dare le condoglianze a persone che hanno perso qualcuno e di trovare gli specchi coperti la scala mai passare sotto una scala generalmente qui per strada per esempio quando stanno facendo l'assistenza stanno dipingendo i muri stanno pitturando quando la scala ecco è così insomma vicino al muro mai passarci sotto perché porta sfortuna ma questo probabilmente perché chi magari stava con la pittura poteva cadere il secchio cadere in testa poteva insomma sicuramente per uno di questi motivi qua non si mette mai il cappello sul letto perché muore qualcuno cioè se lo fai se metti il cappello sul letto muore qualcuno perché questo quindi porta sfortuna perché quando c'era un malato allettato in fin di vita e quindi quasi morto insomma arriva il prete per fare l'estrema unzione e la prima cosa che fa mette il cappello sul letto e il malato ovviamente dopo un po' muore perché stava già morendo insomma quindi mettere il cappello sul letto porterebbe sfortuna o addirittura la morte poi c'è un altro proverbio che non so effettivamente da cosa viene sicuramente perché sono dei giorni associati in genere ad altri numeri che portano sfortuna come dicono però si dice di venere di Marte non si esposa non si parte né si inizia l'arte insomma che di Martedì e di Venerdì credo Martedì sì non ci si dovrebbe sposare non si dovrebbe partire e non si dovrebbe iniziare alcun tipo di lavoro insomma non so di preciso questo da dove venga però penso probabilmente associato al fatto che Martedì 13 venerdì 17 e via dicendo mi ricordo come portino sfortuna secondo la tradizione culturale di tanti paesi e quindi probabilmente per questo e anche perché di venerdì per esempio si diceva di non uscire la sera perché c'erano in giro streghe e diavoli in agguato poi non si mangia in 13 a tavola perché muore qualcuno muore il tredicesimo insomma e si rifà probabilmente all'ultima scena dove c'erano i 12 apostoli più Gesù 13 come viene raffigurato cioè raffigurato come viene detto generalmente Gesù muore quindi in 13 non si mangia mai a tavola si mette sempre e si apparecchia sempre per una quattordicesima persona non si regala mai un portafoglio vuoto significherebbe augurare alla persona povertà quindi va messo anche solo una monetina da un centesimo due centesimi tre centesimi cinque centesimi però va regalato un portafoglio o un portamonete con qualche monetina dentro per augurare buona fortuna spesso mi è capitato che volessi far accendere mi chiedevano ad accendere io fumo e passavo la sigaretta a un amico e mi è stato detto spesso no no così mi piglio i tuoi pensieri infatti mai accendere la sigaretta da un'altra sigaretta perché si rischia di prendersi i problemi o comunque i pensieri che ha questa persona in testa il caos che ha di prenderseli di portarli a sé io ci accendo spesso quindi non mi sono mai piaciuti problemi di nessuno insomma il viola per esempio è un colore che porta sfortuna sempre secondo la tradizione napoletana o comunque anche di altri paesi del meridione perché spesso quando si addobba la chiesa per un funerale per un segue c'è il viola quindi viene associato alla morte e poi un ultimo detto cioè un ultimo un ultima superstizione ma ce ne sono tantissime io ho preso un po' quelle che ricordo più io insomma è quella di mai rifare il letto in tre perché muore la più giovane o la più anziana questo è tutto quindi non fate mai il letto in tre non lo so perché questo non lo so non me lo ricordo spero di avervi tenuto compagnia con questi queste superstizioni della mia città io ripeto sono innamorata della mia città innamorata anche di questa parte folcloristica perché siamo belli siamo belli colorati il popolo napoletano è un bellissimo popolo non è vero che non vogliamo lavorare non è vero che siamo tutti negativi insomma assolutamente no anzi siamo persone che si scorciano le maniche e tirano avanti un carro pesante talvolta senza lamentarci anche se a volte ci sta pure chi si lamenta ci sta pure quello che deve alzare magari in una busta se fa mamma mia come pesa ma io non ce la faccio ma io così ma io colì però il mondo è bello perché è vario io spero di avervi tenuto compagnia con questo video se vi va di sapere altre cose riguardo alla mia città come ad esempio i nomi tipici di alcuni vicoletti da che provengono o tante altre cose tipo il rione sanità c'ha un motivo per cui si chiama sanità insomma se vi interessa sapere altro sulla mia città chiedetemelo grazie per avervi servito e ci vediamo alla prossima ciao